Tutti questi sconvolgimenti dai quali nacquero in tutto il mondo conosciuto gli stati assoluti tranne che in Italia furono l'oggetto di riflessione politica da parte di cultori di primo ordine come Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. Machiavelli descrive la politica frantumata in un pulviscolo di stati e staterelli eternamente in lotta tra loro. Tutti vogliono comandare ma purtroppo le forze si equivalgono e impediscono che una si imponga alle altre. E gli scrive sul principe testualmente e veramente alcuna provincia non fu mai unita o felice se la non viene tutta l'obbedienza ad una repubblica o di un principe come è avvenuto alla Francia e alla Spagna. Insomma lui quasi grida questa cosa cioè noi non possiamo in Italia essere felici se non ci aggreghiamo se anche qui questi feudi non si aggregano tra loro a formare lo stato assoluto. Ma questo lo diceva in contemporanea a quel periodo virgolette è la cagione la causa che la Italia non sia in quel medesimo termine ne abbia ella una repubblica o un principe che la governi e solamente la chiesa. Quindi purtroppo non è che qui si vuole fare dell'anticlericalismo perché lungi da noi questo però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e qui si cominciano piano piano a delineare anche quelle che sono state le cause per le quali l'Italia ad un certo punto scompare dalla scena mondiale. Per Nicolò Machiavelli non ci sono dubbi che la colpa della abortita unità nazionale è della chiesa. Infatti sempre secondo il Machiavelli essa ha sempre giocato uno stato contro l'altro per impedire che quello più forte diventasse troppo forte e li fagocitasse tutti. Ogni volta che c'è stato bisogno non ha esitato a fare corso ad una nazione straniera trasformando l'Italia in un campo di battaglia e in una colonia alla mercè di tedeschi, francesi e spagnoli. Secondo Machiavelli solo un principe virtuoso cioè astuto, ambizioso e senza scrupoli potrebbe fondare in Italia uno stato nazionale sul modello della Francia, della Spagna e dell'Inghilterra. Insomma il Machiavelli rimase per tutta la vita fedele all'ideale di una Italia unita, armata e spretata come scrisse Indro Montanelli nella sua storia d'Italia. Il Guicciardini grossomodo nello stesso periodo scriveva, virgolette, tre cose desidero vedere innanzi alla mia morte, vivere di repubblica bene ordinata nella nostra città, Italia liberata da tutti i barbari e liberato il mondo dalla tirannide di questi scellerati preti. Quindi sostanzialmente anche il Guicciardini non è che si discosti molto da quelle che sono le tesi di Machiavelli. È chiaro che la nascita dello stato laico offre al fedele una sponda importante per svincolarsi da quella che potrebbe essere l'oppressione della Chiesa e della religione. Fino a che non c'erano gli stati la Chiesa l'aveva fatta da padrona perché dove poteva scappare un fedele che avesse messo in discussione il dogma, dove si andava a rifugiare. La nascita dello stato laico offre una scappatoia, una via di fuga, una via di uscita. Per questo la Chiesa non vede di buon occhio la formazione dello stato assoluto e dove lo può impedire non esita a impedirlo. Inoltre lo stato pontificio si trovava nel territorio italiano e quindi la Chiesa non poteva tollerare la nascita dello stato assoluto anche in Italia. In realtà con il trattato di Cato Cambresì di fatto la Chiesa perse gran parte del potere temporale anche in Italia perché gli restava soltanto lo stato pontificio. In occasione della riforma protestante di Lutero e Calvino quindi ha inizio una frattura, una divaricazione ed uno sviluppo sociale completamente diverso tra le nazioni del centro nord Europa da una parte e l'Italia e la Spagna dall'altra. Nel centro nord Europa la Bibbia viene tradotta nelle lingue locali e per consentire a ognuno di leggersela autonomamente vennero aperte scuole per alfabetizzare la popolazione. In Italia la Bibbia restò il latino e il popolo analfabeta. Nel centro nord Europa cominciò a insediarsi tra i cittadini il senso dello stato mentre in Italia Francesco Guicciardini nella sua opera Storia d'Italia rileva che i sentimenti maggiormente rappresentati dall'italiano sono la sfiducia e lo scetticismo per cui non gli resta altra alternativa che pensare al suo particolare. Qui si vede la modernità del Guicciardini che si rendeva conto che se non vivi in uno stato dove cominciano ad esserci delle istituzioni a cui ti puoi rivolgere cosa ti resta se non la sfiducia e lo scetticismo? La riforma di Lutero e Calvino svegliò la coscienza individuale e nacque un uomo nuovo, un uomo che considera l'istruzione un dovere morale perché solo quando avrà imparato a leggere potrà accostarsi alle sacre scritture che Calvino gli ha proposto come unica bussola della sua condotta. Nasce un uomo che da soggetto passivo acquisisce la coscienza individuale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.